Matte ma non è, sembra matte ma non è Bellissimo questo illuminante, è bellissimo il numero 3 cari e cari, guardate che effetto che mi ha fatto Stupendo Buongiorno a tutti cari e cari o buona serissima, ben ritrovati qui dalla vostra erichioba Allora comincio con questo spoiler iniziale perché bene sì in questo video vedrete realizzati due look Completamente diversi dal punto di vista coloristico Proprio perché cari e cari come avete visto in copertina questo video è dedicato a tutti coloro che hanno gli occhi marroni nocciola Quindi vi farò vedere come esaltare le parti più verdi dell'occhio marrone nocciola E come esaltare invece le parti più giallo ambrate, giallo aranciate, dorate dell'occhio marrone nocciola Quindi secondo me questo video è utilissimo se avete gli occhi di questo colore mi raccomando salvatelo E salvatelo anche se siete dei professionisti perché vi può servire anche sul lavoro Oppure mandatelo alla mamma, alla zia, all'amica che ha gli occhi marroni nocciola e non sa appunto come renderli più brillanti In questo video cari e cari ho già realizzato la base e ho applicato il fondotinta di Huda Beauty Io ve ne parlerò meglio su Instagram per quanto riguarda l'Easy Blur Vi posso semplicemente dire che è molto bello quindi se mi vedete la pelle e vi piace l'effetto in questo video sapete che ho utilizzato lui Fatemi sapere se lo volete vedere in azione anche qui sul tubo Durante il video cari e cari vedrete anche in azione la nuovissima palettina di Kiko Milano che è la Master Eyeshadow Palette Una palette che appena l'ho vista in store mi sono detta che bella cosa professionale che ha fatto Kiko Aspetta un po' che me la compro Appunto se la volete vedere in azione avete questo video qui Certo purtroppo non ho utilizzato molti shimmer quindi anche qui fatemi vedere se la volete vedere più nello specifico E infine sempre per quanto riguarda le novità vedete anche le nuovissime colorazioni Degli All in One Volume and Length Mascara di Shiglam Sapete che c'è questo mascara qui che è quello classico nero Che è viralissimo super famoso perché comunque ha un'ottima tenuta Smudge proof credo sia anche water resistant Ebbene sono uscite nuove colorazioni tra cui la blu e la burgundy Vi spoiler appunto che sono super interessanti anche dal punto di vista professionale Perché il burgundy per esempio il mascara burgundy non lo fanno in tanti Vi spiegherò in video nel senso che mascara marroni rossastri ne fanno Ma burgundy mica tanti Quindi ci sono molto utili per questo video qui Prima di lasciarvi la realizzazione del video cari e cari Io vi ricordo che sono in partenza i corsi con me e la MBA Make in Beauty Academy In cui tra l'altro andremo ad approfondire tantissimo tutti questi argomenti Corso super nerd a livello makeup anche perché ci sono io Io non vedo l'ora di ricominciare Sono appunto in partenza ad ottobre Quindi se volete fare una pazzia dell'ultimo minuto mi raccomando Non pensateci due volte Io sarò in autunno-inverno su Milano e Padova E poi dal 2025 su Torino Vi aspetto Ed eccoci qui cari e cari Quindi base realizzata Per quanto riguarda le sopracciglia Siccome so che vi piacciono molto fatte così Io vi ribadisco Dato che me lo chiedete spesso Che io sono innamoratissima E guardate ve lo mostro anche perché ho le scorte praticamente nuove Di queste matite Ma in realtà anche con la parte penna di Shiglam Queste qui sono pazzesche cari e cari Io utilizzo la colorazione top E faccio la parte sotto con la matita E poi i peletti con la penna Cioè il colore top è veramente pazzesco Ma infatti le colorazioni asiatiche appunto Tendono ad essere particolarmente fredde Ed ecco perché mi ci trovo bene Bene cari e cari Partiamo subito perché di cose da dire ne abbiamo Perché in questo video andiamo proprio a vedere Come poter esaltare per bene l'occhio marrone nocciola Quindi direi che l'occhio marrone ce l'abbiamo in molti Bene nel mio libro cari e cari vi ho messo la ruota dei colori Questa naturalmente è la ruota di Itte E potete tranquillamente notare quali sono i colori complementari Proprio perché i complementari sono quelli opposti Quindi per esempio il verde è il complementare del rosso Il giallo è il complementare del viola L'ambrato è il complementare del blu Quindi già avrete iniziato a capire perché questa cosa ci può interessare Perché faremo un lato del volto in cui io andrò ad esaltare l'occhio marrone Avvalendomi appunto della teoria del colore E andando ad esaltarne le parti più verdastre Perché bene sì ci sono quasi sempre delle parti verdi appunto Nell'occhio marrone nocciola Invece dall'altra parte andremo a rendere l'occhio molto più ambrato Tireremo fuori quell'arancio giallo che lo rende un pochettino alla twilight Per capirci siete pronti? Come primo step vado ad applicare un primer Mostro quali sono i colori che andremo a scegliere Sempre dal mio libro trovate anche questa ruota ancora più precisa Che è proprio il settore evidenziato Che per andare ad esaltare il colore verde Il colore complementare è naturalmente il rosso Però qui abbiamo una ruota più precisa E potete vedere appunto anche altri colori qui nelle parti Andiamo a vedere in questa nuova palettina di Kiko Che si chiama la Master Eyeshadow Palette Appunto che cosa potremmo utilizzare con pigmento rosso Naturalmente è questo qui Quindi vanno benissimo anche i borgogna Anche i marroni che appunto contengono del pigmento rosso E noi procediamo Vado a scegliere anche un ombrettino liquido come base E procedo con questo qui di Giorgio Armani Beauty Che è il 565 Voi potete scegliere tranquillamente di andare anche con una matita Non ci sono problemi La potete sfumare anche un matitone Io preferisco questo qui perché comunque ha una texture veramente ottima E come potrete notare è un bel borgogna Quindi davvero perfetto Con decisamente una bella punta di rosso al suo interno E vado a sfumarlo Vicino all'iride Quindi non solo sulla piega Per potermi permettere di esaltare appunto il colore del mio occhio Questo ombrettino mi piace tantissimo E ci sono anche tante altre colorazioni Perché si sfuma alla perfezione Però non fa macchia E tra l'altro lo potete tranquillamente stratificare È davvero di qualità Vedete Cioè proprio già sfumato da solo Andrebbe benissimo Noi andiamo semplicemente a creare un look ancora più strutturato Però se volete indossare solo lui Ci sarebbe senza alcun problema E ha anche una buona durata Mi piace anche perché non dovete preoccuparvi In caso voleste correggere maggiormente la sfumatura poi successiva Perché si può appunto rendere ancora più diffusa Non è un ombretto che si fissa lì E poi fa macchia e non lo spostate più Veramente di qualità Detto questo cari e cari andiamo con il colore che dicevamo precedentemente Da questa palettina di Kiko Vi ho dato una prima impressione su Instagram Per quanto riguarda lei E anche su TikTok E devo dire che è una palettina secondo me Che ha del potenziale anche professionale Perché vedete appunto che ha diversi colori Sia top, freddi, caldi Quindi molto interessante E di fatti ci servirà anche per il nostro video Adesso andiamo a tamponare Concentrandoci soprattutto sulla palpebra mobile Il colore deve essere bello pieno Vicino all'iride Appunto per far sì che il pigmento Vada ad esaltare il verde dell'occhio Sempre meglio che sulla piega ci siano cari e cari prodotti in polvere Perché la polvere fissa E naturalmente vi permette di evitare Di limitare il rischio di pieghette Quello di andare a scegliere Tra questi due Questo qui Perché spero si percepisca bene da video Io faccio sempre la color correction E mi sembra che i colori siano perfettamente Quelli dal vivo appunto aderenti Questo è molto più freddo Contiene più grigio Invece questo qui è un nocciola E quindi anche se sembra strano Contiene in realtà una punta di rosso Perché vira un po' di più verso il rosa Vedete? Quindi vado a prelevare questo Proprio per chi magari non amasse Appunto il look monocolore E vado a fare semplicemente una bordatura Correttiva Faccio ciò anche perché poi Andiamo a mettere il mascara Appunto rosso marrone Quindi non volevo fare tutto un po' too much Adesso per andare a sfumare i bordi del make up Andiamo a scegliere appunto Sempre un colore intermedio Ma questo qui rosa Questo contiene più rosso Quindi che cosa significa? Che mi va ad esaltare Come da ruota Che abbiamo visto appunto ad inizio video Mi va ad esaltare maggiormente il verde Quindi noi rimaniamo assolutamente in tema E anche per quanto riguarda i colori di transizione Li scegliamo appunto sapientemente Vado delicatamente a rendere il make up Meno drammatico Più portabile Sfumando i bordi In questo modo Il mio occhio non dice veramente Niente senza mascara Chi mi segue da tanto tempo lo sa Quindi rimanete con me fino alla fine E adesso andiamo con una matita Cari e care Io spero tanto che siano ancora disponibili Perché io amo alla follia Le matite neve cosmetics Le porto spessissimo a lavoro in accademia Proprio perché ci sono tantissime colorazioni Molto adatte al make up professionale E quindi vado a scegliere una matita marrone Con pigmento rosso all'interno Quindi appunto un marrone borgogna Come questa qui che si chiama Coca-Cola E cari e care La vado ad applicare nel margine libero interno del mio occhio Quindi appunto qui sotto L'attaccatura delle ciglia E per quanto riguarda la rima interna Potete un attimino tirarla giù così col ditino E procedere in tal senso Già così potete notare Quanto il mio occhio risulti appunto più brillante Un pochettino più verde Rispetto a questo Che è proprio marrone Vedete? Adesso lo vedrete ancora di più a make up completato Vado a completare il make up Con il nuovissimo mascara di She Glam Appunto nella colorazione burgundy Questo qui è l'all in one volume and length mascara Difatti ha una parte con lo scovolino un po' più cicciottello Così appunto da conferire maggiore volume E da quest'altra parte invece ha lo scovolino in lastomero così curvato Potete scegliere voi come vi piace di più l'effetto Io solitamente li utilizzo tutti e due Quindi vado con lo scovolino un po' più cicciottello E vado a conferire volume alle radici Anche questa è una cosa importante Perché a noi serve che i colori siano sempre vicino all'iride Guardate come l'occhio sembra Eh sì col mascara cambia tutto cari e care Tra l'altro questo mascara qui di She Glam cari e care È molto famoso appunto nella sua versione nera Anche perché è smudge proof Quindi è parecchio durevole E un'altra cosa che a me piace è che si asciuga velocemente Quindi appunto questa cosa vi permette anche di evitare eventuali sbavature Perché in mascara che non si asciugano mai Io rischio sempre che mi si trasferiscono sopra la palpebra Proprio perché ho le ciglia piuttosto incurvate Quindi adesso lascio asciugare E per la parte sotto invece utilizzo l'altra parte dello scovolino Perché è più di precisione Quindi posso andare sia di punta che di lato Cari e care lo sapete che io sono troppo felice Perché ho sempre paura di sudare qui E invece appunto ho fatto il trattamento Con la tossina butulinica E sono praticamente asciutta Non ci posso credere Se volete approfondire vi ho caricato sia uno short qui su youtube Oppure anche i video sugli altri social Come vi dicevo certe sbavature io le vado a gestire a fine makeup Quindi nel caso voleste per esempio liftare maggiormente l'occhio Vi consiglio di mettere due puntini di correttore E molto semplicemente Tra l'altro non vi fa l'effetto scotch Che io abborro Vedete vi fa un effetto super liftato Ma appunto non effetto scotch Non effetto riga Per capirci E quindi questa tecnica qui Per correggere il makeup finale è perfetta Adesso cari e care ancora più di prima Io direi che si nota tantissimo Quanto quest'occhio sia più verde rispetto a questo Ma secondo me appunto ve ne renderete conto Ancora di più a makeup terminato Vi faccio un bello zoom cari e care Perché questo mascara secondo me vale veramente la pena Dopo che avete lasciato asciugare lo strato che avete realizzato con lo scovolino più cicciottello Secondo me utilizzare successivamente questa parte qua Allunga davvero parecchio Adesso so che voi vedete appunto tutto borgogna E quindi magari è meno esaltata la cosa rispetto ad un mascara nero Però vedete quanto lunghe sono le ciglia Guardate Cioè troppo bello questo mascara E un'altra cosa cari e care Questo qui è proprio un mascara burgundy Quindi non è un mascara marrone rosso Che andrebbe benissimo anche quello Ad esempio è famosissimo il dream pop La colorazione appunto marrone rossa Del mascara pillow talk di charlotte tilbury Che però come vi dicevo Vedete è un marrone rossastro Invece cari e care Questo qui di she glam E noterete appunto la differenza È proprio un burgundy Quindi questo funziona ancora di più Perché se tornate indietro nel video E guardate qual è l'esatto colore complementare del verde Che serve a noi esaltare È più un rosso tendente al burgundy viola Quindi questo è perfetto Vedete anche questa palettina di Kiko Secondo me è proprio da conoscere Infatti sono contenta di avervi fatto il video Perché così sapete che sembrano matte Ma in realtà sono anche riflettenti Vedete che bell'effetto Punto luce qui Punto luce qui Ottimo Adesso ci trasferiamo di qua E quello che dobbiamo fare appunto È andare ad esaltare invece la parte Ambrata Quindi giallo arancione del mio occhio E andiamo a vedere che per andare ad esaltare Questi colori qui Dobbiamo praticamente utilizzare i blu Quindi se noi andiamo anche alla ruota successiva Vedete che nessuno ha l'occhio così Naturalmente magari è più ambrato E di conseguenza i blu sono proprio i nostri colori Tutto ciò che vi sto mostrando cari e care Fa parte del mio manuale Vi svelo il trucco Manuale professionale di makeup correttivo e abbellimento Che è anche il libro di testo appunto dei miei corsi È edito Gribaudo Lo trovate anche su Amazon E vi lascio naturalmente come sempre i link qui sotto Bene cari e care da questa parte Quindi abbiamo detto che andremo a realizzare un makeup blu Se lo volete portare un pochettino al portabile Vi faccio vedere io come Per esempio io partirei con un matitone E il matitone che ho scelto è di RV Lab Il numero 63 Perché sto utilizzando dei colori scuri Per arrivare al nostro obiettivo Ovvero illuminare l'occhio marrone nocciola Dobbiamo comunque utilizzare dei colori scuri Quindi quello che dobbiamo andare a fare È esaltare anche la sua chiarezza Cioè le parti verdi Le parti giallo-ombrate dell'occhio Sono le parti più chiare Ecco perché ci serve il contrasto Non solo cromatico Ma anche di valore Sado sempre vicina all'iride Per il solito motivo Questo matitone di RV Lab è piuttosto morbido Cosa che io prediligo Sfumo il tutto Incredibile come appunto già si veda Che qui l'occhio è esaltato Nella sua variante un po' più giallina Ora vado a prendere questo ombretto Pazzesco cari e care Che è un blu indaco Quindi direi perfetto appunto Per il nostro obiettivo Ed è il 617 di Inglot A parte che io amo tantissimo Inglot Nel caso appunto aveste interesse A prendere degli ombretti professionali Li trovate su Douglas Spero tanto che riusciate a trovare anche questo qui E lo vado appunto a tamponare Vicino all'iride Che novità Proprio perché ci serve Per andare ad esaltarla Ecco i makeup blu Magari potremo provare A tenerlo Questa parte qui un po' più basso Rispetto a questo Perché i colori freddi Appiattiscono un pochettino Invece i colori un po' più caldi Questo è un po' più caldo Perché contiene del rosso Sono molto più pop Vanno ad esaltare anche le tridimensionalità Quindi succede che se io faccio tutto l'occhio Potrei appunto rischiare Un po' di effetto Pugno in un occhio Per l'appunto Non c'è un altro modo di dirlo Che bello questo colore E che bello questo makeup Cioè pensavo Di essere una Più da questa parte Comunque mi piace un sacco Però mi sta prendendo tantissimo Questa parte qui Anche perché ultimamente Sono molto incline A scegliere i colori freddi Per me stessa Mi piacciono tantissimo Li trovo estremamente eleganti Scelgo sempre una matita di neve E questa qui è New Car Ed è appunto un blu elettrico Che io vado ad applicare Però qui sotto Quindi non nella rima interna Ma solo All'attaccatura delle ciglia Sebbene ci servirà sicuramente Anche un'altra matita Che però sceglierò Di un altro colore Per la rima interna Proprio perché Se noi lasciassimo Questo spazietto Vicino all'iride Non raggiungeremo Il nostro obiettivo Appunto di esaltare l'iride Vado a sfumare Questa matita Che è veramente bellissima Cari e cari Io amo le matite di neve Io vi ricordo Che avete il 10% Sempre attivo Con il mio promo code Eri Chiova10 E quando ci sono delle promozioni Alle volte il mio promo code È anche valido Quindi cumulabile Con altre promozioni Cambiamo ancora Tocco finale Per quanto riguarda Ombretti e matite E vado con questa matita Qui che si chiama Enigma Pazzesca Ed è ancora Più intensa Vedete Più pop Rispetto Alla precedente Che ho utilizzato Ma l'ho utilizzata Perché come vi ho già spiegato A me serve Comunque anche La componente Scura Per andare Ad esaltare Appunto La parte chiara Dell'iride Voilà Cioè guardate Come scrivono Queste matite Io le adoro Aggiungere un punto luce Anche di qua Andrei con questo avorio Non scelgo Questo panna Perché contiene Del giallo Al suo interno Quindi se io Scegliessi Questo colore Di transizione Giallo Andrei A contrastare Il blu E i colori complementari Diciamo Sovrapposti Danno il bistro Danno un colore grigiastro Questo è il motivo Per cui Nel caso Ogni tanto Vi capitassero Delle macchie grigie Mentre realizzate I vostri makeup E non capite perché Probabilmente Avete mescolato assieme Due colori complementari Questa parte Adesso All in one Volume and length Mascara Di Shiglam Appunto Nella sua versione Blu Quindi facciamo La stessa cosa Che è proprio L'utilizzo Che vi consiglio Quindi partiamo Con lo scovolino Cicciotto Asciugato il mascara Appunto Vado con la parte Con lo scovolino In lo stomero Curvato E voilà Caricare Mascara blu Applicato Di qua Invece Avevamo appunto Il burgundy Adesso Mi Dividerò La faccia E appunto Provate magari Anche con un foglio A4 A vedere Cancellandomi Una parte Di faccia Se vi sembra Vera questa cosa Perché vi assicuro Che naturalmente Noi studiamo La teoria del colore Proprio per queste motivazioni Io direi che è decisamente visibile Come questa parte del mio occhio Sia decisamente Enfatizzata Nelle sue parti Più giallo Ambrate E invece Questa parte qui Appunto Nelle sue parti Più verdognole Fatemi sapere Se siete d'accordo Se la vedete La differenza E soprattutto Se vi piace di più L'occhio enfatizzato Con il verde Oppure Nelle sue parti Giallo arancio Potete tenere presenti Queste direttive Sul colore Anche per quanto riguarda L'applicazione Di blush E altri prodotti Sul volto Quindi In questo caso Sono andata di Huda Beauty Nella colorazione Watermelon Pop Prima avevo messo Anche un po' Di peach sorbet Quindi Ambe due Con pigmento Rosso all'interno Quindi anche Lo zigomo Vicino all'iride Se truccato Con la stessa Concezione Coloristica Se vi sono piaciuti I paroloni In questo video Cari e care Scrivete qui sotto L'hashtag Paroloni Paroloni Fantasmagorici Invece di qua Naturalmente Non potendo applicare Un blush Blu Perché non sarebbe Correttivo Abbellimento Ne scegliamo Comunque Uno freddo Come questo qui Di Mula Che è il numero 17 Io ci sono trovata Veramente Molto bene Con questi prodottini Liquidi Di Mulac È un brand Che io apprezzo Tantissimo Lo seguo Sin dai suoi esordi Cioè proprio Dalla primissima Palette Vi ricordate Sulle labbra Cari e cari Sono rimasta Piuttosto neutra Ho semplicemente Applicato una matita Questa qui è la Lipmaster 0-2 Nude 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 Iridescenze Piccoline Piccoline Super Eleganti Ed è Questo qui Lo 07 Dei Prisma Glass Di Armani Beauty Bellissimo Tocco finale Cari e cari Vado con questi due Illuminanti Di Armani Beauty Che sono la fine Del mondo E anche qui Stesso identico Concetto Quindi possiamo Andare con Il numero 3 Che è appunto Un rosino E vado ad applicarlo Sulla parte più alta Dello zigomo Naturalmente L'illuminante Per carità Si vede molto meno Ma vi assicuro Che se lo mettete Troppo freddo Cioè comunque Qui potrebbe Cozzare un po' Perché il look È parecchio caldo Guardate L'occhio più verde Bellissimo Questo illuminante È bellissimo Il numero 3 Cari e cari Guardate che effetto Che mi ha fatto Stupendo Poi questi illuminanti Sono pazzeschi Infatti di qua Vado con l'uno E questo qui È proprio Bianco Vedete Super lunare E quindi Si abbina perfettamente Anche con il punto luce Che abbiamo realizzato Di qua E voilà cari e cari Make up Terminato Devo dire che mi piacciono Tantissimo Entrambi Quindi non saprei Scegliere Mi raccomando Fatemelo sapere Qui sotto Voi con un commentino Soprattutto Se avete L'occhio Marrone Nocciola Se vi piace Di più Ambrato Quindi esaltato Nelle sue parti Giallo Arancio Quindi non è che Facciamo diventare L'occhio Giallo Però appunto Molto più dorato Ambrato Alla twilight Come dicevamo Oppure se vi piace appunto L'occhio esaltato Nelle sue parti Più verdognole Quindi un pochettino Più Ma in realtà Sono caldi Tutte e due Se vogliamo Perché l'occhio Nocciola Marrone È un occhio Caldo Tendenzialmente A meno che Non sia un occhio Con molto Pigmento Scuro Che vira Addirittura Verso Il testa di moro Quindi marrone Nero Allora lì Si vanno A realizzare Altre Scelte Coloristiche Se vi può piacere L'idea E avete delle richieste Tematiche Da farmi Scrivetemelo Qui sotto Con un commentino E l'hashtag Più video pro Cari e cari vi mando Un grosso bacio Spero davvero Di conoscere Alcuni di voi Nelle nuove classi 2024-2025 A Milano Padova e Torino E noi ci vediamo Nel prossimo video Bye Bye